A chiudere il programma della giornata numero 27 del torneo cadetto ci penseranno il Catani e il Pescara attesa allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia dal duello tra le principali delusioni di questo campionato cadetto. Si giocherà domenica alle 15. Sia gli abruzzesi che gli etnei infatti si aspettavano di vivere una stagione da protagonisti ma per una quantità innumerevole di motivazioni entrambe le squadre viveranno questo confronto in una condizione di classifica per nulla entusiasmante. Decisamente più tranquilla la situazione degli uomini di Mister Baroni che con una vittoria potrebbero far sentire la propria presenza nella lunga rincorsa verso un posto nei playoff mentre la formazione guidata da Marco Lin dovrà necessariamente evitare una sconfitta per non farsi coinvolgere ancora di più nella lotta per evitare la retrocessione in Lega Pro anche se gli otto punti dall'ottavo posto non rappresentano un distacco così ampio se i rossazzurri inizieranno ad avere continuità di risultati prima ancora che di gioco. Ci si aspetta un passo in avanti rispetto alla scialba prova di lunedì contro il Crotone e si spera nel gol dell'ex di Riccardo Marieno che a gennaio ha lasciato Pescara da capitano per tuffarsi nel nuovo corso catamese targato Marco Lin dell'Icarri Cosentino.